È stata recuperata, sana e salva, la 29enne fuggirà dal ricovero e dal trattamento sanitario obbligatorio. Aveva propositi autosoppressivi, vedendo gli operatori del centro di salute mentale, è fuggita nelle campagne di Via Lamaccio questa mattina. Con l'ausilio delle forze dell'ordine, tramite uno specifico protocollo adottato, in particolare con un massiccio di spiegamento di poliziotti, nuotamente carabiniere e forestali, si è riuscita a rintracciarla in zona Cassino-Pantano-Via Vicenne, proprio nella frazione Marane. E sarà quindi accompagnata dall'ambulanza del 118 e dal centro di salute mentale al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata, dove ha avuto l'assistenza necessaria per le sue condizioni. Da lì è stata trasferita presso un altro ospedale. Le ricerche erano scattate questa mattina intorno alle 11, quando la ragazza era fuggita dopo essere stata raggiunta la trattamento sanitario obbligatorio.